Musica Buongiorno ragazzi, questa è la Nell'Art che vi propongo oggi, Nell'Art per Pasqua, nell'Art molto semplice, molto carina, ho voluto giocare un po' con i colori e con le differenze di striscioline e pallini, chiedo scusa ma qui all'indice si è rotto l'angolino e dato che non sapevo come aggiustarli perché è proprio saltato, non me ne sono neanche accorta, non mi andava di starli ad accorciare anche perché sarebbe venute troppo troppo corte, e quindi per questa volta e forse per qualche altro video avrete l'angolino sbeccato, mi dispiace, però anche con le unghie così si fanno nell'arte, più di tanto non si vede, ragazze vi lascio i prodotti al tutorial, un bacio! Musica Allora, io ho già applicato la mia base protettiva su tutte le unghie e su tutte le unghie una mano di bianco, cosa andiamo a fare adesso? Lavoreremo poi unghia per unghia ovviamente, sull'indice, sul mignolo e sul pollice sono andata a mettere 4 striscioline, vedete, e al centro c'è uno spazio più grande, invece sull'indice e sul medio solamente due e gli spazi grandi sono sopra e sotto, ora cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere lo smalto rosa che è stato messo sul mignolo e sul pollice, lo andiamo a mettere sull'indice, mentre sul medio di a mettere un altro colore, dopo aver steso il colore con lo smalto ancora fresco andiamo a rimuovere le striscioline, Ecco, ora ho tolto le striscioline e purtroppo sono venute fuori delle imprecisioni, come per esempio qui mi è venuto via un po' di smalto e da un'altra parte qui avevo avuto una strisciolina di rosa, cosa andiamo a prendere adesso? Prendiamo uno smalto bianco con un pennello sottile e andiamo a ripassare, per ora lasciamo asciugare il rosa, questo lavoro lo facciamo dopo, e andiamo a fare il medio, prendiamo un azzurro e andiamo a fare lo stesso procedimento. Ecco fatto, ora lasciamo asciugare. Ora prendiamo dello smalto bianco e un dotter dalla punta piccola, andiamo a creare i nostri puntini, ovviamente li saremo sull'indice, sul mignolo e sul pollice, qui dove c'è la parte larga, sull'anulare e sul medio invece, qua sopra, quindi uno qui, uno qui e al centro. Ecco fatto, ora lasciamo asciugare. Ecco fatto, l'anel art è completata, io ho già applicato il mio top coat su tutte le unghie, ragazze, io spero che l'anel art vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video. Un bacio grande, ciao!